Cos'è l'energia? Lo abbiamo chiesto ai nostri clienti più esigenti. L'energia è che quando te accendi la luce, nella lampada c'è un po' di energia. La cucina, i fornelli. Quando la mamma va al lavoro. Una cosa che alimenta gli agenti elettronici. Per me l'energia è andare sullo spazio. Na na na, mi prepara la pizza? Qualunque sia la tua idea di energia, Gritti è sempre al tuo fianco. Scopri l'offerta Energia con te su grittienergia.it Questa è l'energia! Vado a play! Ecco l'energia! Grazie a tutti!